Finalmente operativo il Palacorradi, il nuovo gioiello dell'impiantistica sportiva. Il Comune di Arenzano in questi anni ci ha creduto molto. Con l'assessore allo sport del Comune di Arenzano oggi possiamo davvero vedere queste immagini. Per la prima volta è un gioiello al servizio dello sport di tutta la comunità. In questo periodo non sembrano immagini, anche diciamo vivere un'utopia, nel senso che noi era un percorso che da 30 anni il Palazzetto dello Sport si aspettava ad Arenzano. Ho avuto l'onore e la fortuna di essere l'assessore nel momento in cui vede la luce. E niente, cosa è successo? È successo che immediatamente dopo la costruzione noi come Comune abbiamo cercato a chi affidare, abbiamo fatto un bando. A questo bando si è presentato un ATI, un'associazione temporanea, con delle associazioni del territorio che si sono messe insieme per cercare di collaborare e far vivere questo palazzetto. Il capofila di questo ATI è la Rarinante a Arenzano, società storica che ha anche la gestione di un impianto sportivo, quindi sinonimo di sicurezza per l'amministrazione avere dei responsabili di fiducia. E poi successivamente appunto si sono unite la Ginnastica a Arenzano, la Arenzano Dax, il Rensen Team e poi comunque altre associazioni che magari non sono dentro l'ATI ma che potranno vivere il palazzetto come la Palavola a Arenzano. Poi adesso è nata un'altra associazione di Palavola a Arenzano, quindi diciamo che lo sport da Arenzano vive e appena sarà possibile vivrà veramente tantissimo e darà tantissimo alla nostra comunità. L'avete intitolato Pala Corradi, perché? L'abbiamo intitolato Pala Corradi perché appunto Paolo Corradi è un simbolo dello sport arenzanese, è stato fondatore storico della SPAL, la società appunto di Arenzano, quindi ci sembrava al sindaco soprattutto che ovviamente lo ha conosciuto personalmente, gli sembrava doveroso indicare un personaggio così importante per quello che è l'emblema dello sport, un palazzetto. E quindi la scelta non poteva che ricadere appunto su Pala Corradi. Quando abbiamo fatto l'inaugurazione abbiamo invitato la famiglia, sono venuti i due fratelli, Alberto ha fatto un discorso bellissimo. Tra l'altro Alberto è assessore allo sport del Comune di Cogoleto a cui ha fatto molto piacere in tutta l'azione e credo che su questo tutti erano d'accordo e nessuno poteva esimersi da esserlo. E' un bellissimo segnale, in un momento complicato come questo, una struttura che apre, non può essere che davvero un simbolo di speranza, di gioia, perché lo sport, non dobbiamo mai dimenticarlo, racchiude valori importanti che sono anche quelli della salute, del saper stare insieme, del giocare di squadra, di reagire alle crisi. Quindi avete lanciato un bellissimo segnale. Un Comune di Arenzano che peraltro, ricordiamolo, può vantare su associazioni importanti e su eventi di grande richiamo, uno su tutto, la Mare Monti, che insomma è un gioiello a livello internazionale. Guarda, hai detto tutto perfettamente. Io, se c'è una cosa che ho imparato in questo percorso da assessore, è conoscere tantissime cose che nonostante tutto non conoscevo. Arenzano vive di sport, vive di cultura, abbiamo tantissime cose da fare e di conseguenza l'assessore di riferimento ha tantissime persone con cui interfacciarsi. Questo è veramente un privilegio. Per quanto riguarda la Mare Monti, anche essa ovviamente l'anno scorso è stata toccata dalla disgrazia Covid-19, quindi abbiamo dovuto posticiparla. Quest'anno stiamo cercando di capire, diciamo che le notizie positive è che col Parco del Begua si stanno facendo dei lavori molto importanti per mettere a posto un discorso franoso che c'è stato sulla Gava. Successivamente credo che nei prossimi mesi, nei prossimi due mesi, si ragionerà sull'organizzazione. Purtroppo so che molte marce internazionali sono già state posticipate. vedremo il destino della Mare Monti. Di certo la Mare Monti sarà un altro tassello da cui ripartire il prima possibile per Arenzano post-Covid. Il nuovo Palacorradi, una piscina che è un punto di riferimento storico, un campo da calcio che è stato rifatto non da molto e quindi è un altro impianto sicuramente d'eccellenza. Possiamo dire che Arenzano in questo senso per lo sport è davvero un'isola felice? Assolutamente. Arenzano è un paese, una piccola città dello sport a tutti gli effetti. Noi abbiamo il palazzetto, la piscina, la tenisostruttura qui vicino, il campo da calcio come dicevi. Poi abbiamo inaugurato poco tempo fa dal piazzale del mare due aree con altri due campi da basket. Abbiamo il campo da bicevolley. Da poco abbiamo inaugurato una palestra aperta, outdoor, in lungomare d'Andrè, dove poi dovremo fare un intero percorso di palestra aperta, si spera. E qui, soprattutto, a breve, proprio qui dietro, partiranno i lavori anche per lo skate park. Non ci facciamo mancare niente, quindi cerchiamo anche di rispondere anche a qualche sport un pochettino magari più di nicchia.